Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri manati di sport, in particolare i veri amanti di basket, in questo caso Eurolega, gara 5 Monaco contro Maccabi. Ho visto questa partita nella notte durante una mia trasferta e ve ne parlo adesso che sono rientrato nel mio studio. Una delusione, questo è un video di delusione, sapete che sono infatti un'estimatura del Maccabi e stavolta ho sognato davvero il ritorno alle Final Four che mancano dal 2014 quando Maccabi vinse l'Eurolega a Milano al Forum e io ero presente. Invece il sogno questa volta si interrompe nella gara 5 del Principato con una vittoria 97-86 per la formazione di Obradovic. Tanti, tantissimi credio rimpianti per il Maccabi che credo abbia perso la partita soprattutto nel primo quarto quando tirando in maniera irreale, oltre l'80% si è trovata avanti di soli 7 punti, segnando 33 punti, accettando un ritmo di gioco probabilmente più vantaggioso per il Monaco nel quale la difesa un po' più a vista ma soprattutto degli attacchi che la mettevano sempre e il Maccabi tirando così bene ha avuto un vantaggio troppo troppo risicato. Poi Mike James è salito in cattedra, ha giocato un secondo quarto strepitoso sia personale dal punto di vista dei punti, sia negli assi, sia nel coinvolgere i compagni e ha riportato il Monaco in linea di galleggiamento con un parziale molto forte durante il secondo quarto. Da lì ne è nata una partita punto a punto, James si è fatto male, penso alla caviglia, il secondo tempo ha giocato in maniera molto meno influente su una partita, però il Monaco è stato capace di trovare nuovi protagonisti che hanno portato la partita alla fine dalla propria parte. Coach Obradovic, del quale ho perso molta stima per un atteggiamento eccessivamente da piangina lungo tutta questa serie che è stata molto opaca, devo dire, adesso al di là del fatto che avesse una preferenza per il Maccabi, se guardate la partita gli arbitraggi sono stati tutti molto particolari, al di là del gara 2 dove il lavoro di Rijic è stato osceno e poi è finito sotto silenzio per la Rissa di Madrid, ma anche questa gara 5 meno decisivi gli arbitri, ricorderete in gara 2 5 falli tecnici contro il Maccabi e due giocatori espulsi, e anche in questa gara i fischi, quelli importanti, sono andati sempre in una certa direzione. Monaco si è confermata una squadra atletica, fisica, sicuramente di buone qualità, e Obradovic, dicevo, del quale ho perso un po' più di stima da un punto di vista emotivo, però è stato molto bravo dal punto di vista di allenatore perché ha saputo puntare sui giocatori che all'inizio non avevano fatto parte della serie, come Ouattara, che avevo sempre indicato come uno dei punti di forza di questo Monaco perché è un cagnaccio difensivo pauroso e poi anche in attacco sa fare il fatto suo, e poi ha giocato molto bene Moneke che è stato decisivo da un punto di vista fisico. Il protagonista finale è stato però l'amico Lloyd che ha chiuso con 8 falli subiti, 3 su 3 da 3 punti, 10 su 12 dal tiro libero, e soprattutto è stato protagonista dell'azione chiave della gara, ovvero quando negli ultimi minuti, eravamo penso 3 minuti dalla fine o qualcosa di meno, comunque nel quarto quarto, su un suo tiro da 3 punti l'arbitro Iavor ha trovato modo di fischiare un fallo antisportivo a Colson, nell'ambito dell'antisportivo due punti di Floyd, sul possesso tripla ancora di Floyd che quindi ha allungato, Lloyd scusate, che quindi ha allungato e dato il vantaggio al Monaco, poi altro fallo ancora sul tiro da 3 punti, il Maccabi è stato veramente molto pollo, Odette Katash credo che diventerà anche da coach quello che è stato da giocatore, ovvero un grandissimo, però sicuramente deve ancora maturare esperienza, il percorso che ha fatto il Maccabi durante la stagione è stato molto bello, da un punto di vista anche spettacolare, è una squadra che ha giocato molto bene, è nata, ha vissuto, e ora è morto da un punto di vista della possibilità di vincere l'Eurolega con la mediana, con Baldwin e Lorenzo Brown, Baldwin ha giocato una partita strepitosa, chiudendo con 35 di valutazioni, Lorenzo Brown con 0, Lorenzo Brown ha mancato completamente la sfida, è stato dominato sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale, e forse coach Katash, come ha fatto Bradovic, avrebbe dovuto cercare di trovare qualche soluzione alternative, magari qualche minuto in più di Bartolomeo, ha avuto buone risposte da Martin all'inizio e poi si è un po' perso nel finale, il rientro di Poitres probabilmente non ha dato un vero valore aggiunto alla squadra, ha tolto minuti a Nibo, e sia Poitres che Nibo hanno giocato molto bene, i due dati chiave della gara sono i 15 rimbalzi offensivi che ha preso il Monaco, e le 15 palle perse del Maccabi, alcuni con falli in attacco un po' risibili per tuffi di giocatori del Monaco appena toccati, ma comunque troppi errori, troppi errori, troppe scelte anche che non mi hanno convinto fino in fondo, che impediscono quindi alla squadra israeliana, cheppure ha tirato con il 48%, 14 su 29 da 3, di portare a casa quello che era un obiettivo veramente notevole. Detto questo, di Watarabio detto, di Moneke, James ha chiuso con 21 punti e 2 su 10 da 3, comunque perché poi ha fatto molta fatica nel secondo tempo, però insomma Monaco dimostra di essere una squadra, devo dire la verità, se ne parlava all'inizio dell'anno, una squadra da Final Four, lo scorso anno si fermò al spareggio, a gara 5, sul campo dell'Olimpia Costa, a volte invece giocando in casa è riuscito a fare il passo finale, è alle Final Four, giocherà ancora contro l'Olimpia Costa la sua semifinale, si conferma questa tradizione incredibile dell'Eurolega che chi ha la gara 5 in casa la vince, l'ha sempre vinta, questo ridà valore anche alla regular season, il Maccabi aveva girato comunque la serie a proprio favore vincendo gara 1 in maniera molto chiara e ha buttato via tutto perdendo male la gara 3 che è quella che ha reddato il vantaggio del fattore campo al Monaco. Quindi, alla fine, fatemi sapere un po' ragazzi anche voi come avete vissuto questa partita che francamente mi è davvero lasciato un po' di amarezza, mi sarebbe piaciuto molto vedere il Maccabi alle fasi finali e vediamo cosa saprà fare il Monaco contro l'Olimpia Costa. All'altra parte c'è il Barcellona, devo ancora vedere il Real Partizan, se riesco la guardo più tardi e ne parliamo, altrimenti mi leggerò al punteggio e poi parleremo nei prossimi giorni di quelle che possono essere le Final Four. Iscrivetevi al canale ragazzi, attendo i vostri commenti, sono molto curioso e per la pallacanestro in ogni caso l'appuntamento poi è più tardi con l'MBA. Grazie, ciao a tutti, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao da Lox!